E diamo il benvenuto a Flavio Pressacco, professore, buon pomeriggio, grazie di essere qui con noi in studio allo spirito del tempo. Grazie a voi, buongiorno a tutti. E diamo il benvenuto a Marino Firmani, grazie Marino, grazie Firmani di essere qui con noi allo spirito del tempo. Dunque, Flavio Pressacco e Marino Firmani sono autori, assieme a Roberto Ponticello e a Roberto Collini, del libro Un secolo a canestro, i friuli Venezia Giulia, fra storia e sport, pubblicato da Aviani e Aviani Editori. Dunque, questo è il primo volume, vuole essere il primo volume di un'opera in due e forse anche tre volumi, che, diciamo così, ripercorre la storia della palla a canestro del friuli Venezia Giulia, diciamo quindi dalle origini, in questo caso nel primo volume si arriva poi fino ai primi anni 70. Sì, fino al terremoto, fino al 1976. Ecco, fino al terremoto, che è stata poi una data di rimente anche dal punto di vista economico e ha avuto la sua influenza, anche questo ne parleremo. Ecco, Pressacco, io comincerei proprio con lei. Allora, come comincia l'avventura del gioco della palla a canestro nella nostra regione? Beh, insomma, prima della guerra e durante, poi la guerra ovviamente anche ha reso più difficili. Parliamo della seconda guerra mondiale. Spottive, certo. È, come dire, più un reperto quasi preistorico, nel senso che si chiamava ancora palla a cesto. Palla a cesto, sì. È diventata poi palla a canestro, appunto dopo la seconda guerra mondiale, e poi basket, diciamo, nel tempo. E c'è stata, noi in questo libro ovviamente trattiamo proprio molto rapidamente il periodo precedente, e quindi il libro veramente tratta dal 46, diciamo, dall'immediato dopo guerra fino appunto al 76, un trentennio sostanzialmente. Perché proprio in quel momento, nel dopoguerra, questo sport comincia a diventare popolare, insomma? Eh certo, c'è una fortissima influenza dell'immagine del mondo americano, che ispira anche ovviamente, che è anche collegata particolarmente in alcune zone dell'Italia, e particolarmente però, per intuibili motivi, insomma, non possiamo dilungarci, in questa regione, visto anche il contenzioso appunto. Sì, perché poi non dimentichiamo che Trieste per nove anni fu appunto retta da un governo militare dell'americano. E quindi questa è un'influenza fortissima, che anche in altre zone d'Italia, ma particolarmente qui, è che accelera una transizione appunto da la palla a cesto, diciamo, artigianale. Perché gli americani portano la loro scuola, diciamo. Gli americani portano, noi abbiamo una foto, diciamo, che simboleggia questo, la foto di Elliot Van Zandt, che era proprio un militare americano, che era un ottimo tecnico, un ottimo allenatore, che fu addirittura istruttore, allenatore del nazionale, eccetera. E quello rappresenta, diciamo, però, in un contesto in cui c'era anche nel dopoguerra il sogno americano, tra virgolette, ricordiamo tutti la canzone di Carosone, Tu vuoi fare l'americano, di quei tempi. Ecco, e quindi questo dà il senso, diciamo, di un cambio di passo, che rapidamente trasforma il basket, la pallacanestro, o meglio, la pallacesto in pallacanestro, eccetera, in sport che diventa quasi, poi, e che a tappe si trasformerà clamorosamente da sport, come dire, elitario, o addirittura giocato esclusivamente da studenti nei ritagli di tempo, a, veramente, quasi al primo sport, contendendo perlomeno al calcio negli anni settanta, quasi, e al ciclismo, cioè agli altri sport, cioè che però, ovviamente, più di massa, rimanendo, comunque, con la capacità di essere nello stesso tempo sport ancora d'elite, per certi versi, ma anche diventando sport di massa, questo magico connubio, che dà il senso, diciamo, della... Ecco, Marino Firmani, stiamo parlando del libro, appunto, Un secolo a canestro, Friuli Venezia Giulia, fra storia e sport, abbiamo ospiti con noi due autori, Flavio Presacco e Marino Firmani, che hanno firmato questo volume, insieme a Roberto Ponticello e Roberto Collini, un volume, peraltro, pubblicato da Viani e Viani, ricco di immagini, ricco di fotografie storiche, con, diciamo, delle finestre anche sull'attualità, in cui parlano anche i protagonisti, almeno i protagonisti di allora. Firmani, chi erano, cosa succede, quindi, nel dopoguerra? Parliamo, cominciamo a parlare già dagli anni cinquanta. Chi sono, chi sono i principali protagonisti di questa, di questo esploat, chiamiamolo così? Beh, in questa regione l'exploat della palacanestro inizia proprio da Trieste, Trieste città inclusiva, Trieste che sapeva valorizzare le diversità che si vivevano all'interno di questo perimetro, grazie agli americani che hanno insegnato a giocare alla palacanestro, quindi il movimento di Trieste si ispirava alle gesta degli americani, ma inclusivo e valorizzava le diversità perché c'era anche l'influenza della Jugoslavia. Ecco, questo è anche un capitolo molto importante, voi ne parlate nel libro. Una crescita della palacanestro che si trasforma in basket, come diceva Flavio Pressacco, grazie appunto a questi giocatori d'avanguardia che hanno saputo esportare verso l'Italia questo sport spettacolare che ha coinvolto poi tutta la regione. Il libro, proprio in questi 30 anni di storia, viene raccontato come una triestinità che viene valorizzata attraverso la palacanestro nel primo di questo decennio per poi evidenziare anche come i talenti che provenivano da questo territorio grazie all'ispirazione americana e anche in parte Jugoslava poi andavano ad alimentare le grandi squadre di Milano, di Varese, di Cantù, di Pesero e di Bologna per poi arrivare al successo che invece hanno avuto anche le altre province come Gorizia come Gorizia e come Udine Certo, Flavio Pressacco, almeno all'inizio siamo sempre agli albori della palacanestro nella nostra regione la storia, comunque il vostro libro Un secolo a canestro è tutto improntato proprio a dimostrare come questo sport sia cresciuto, si sia evoluto in stretto contatto con quelli che se l'abbiamo detto sono stati mutamenti politici, economici della regione all'inizio quindi almeno è una storia quella della palacanestro segnata dalla politica facciamo qualche esempio, alcune squadre mi ha colpito, forse non lo ricordavo che a Trieste c'era la squadra della Polizia Civile e c'era anche la squadra della Lega Nazionale quindi come dire, erano delle realtà connotate che ruolo hanno avuto poi anche nello sviluppo dello sport? No, ma questo è interessante perché appunto la realtà particolare che viveva il mondo giuliano ma anche proprio nell'incertezza di quella che sarebbe stata la definitiva ripartizione se vogliamo usare una parola forse spiacevole ma indubbiamente quello era il momento tra Italia e Jugoslavia, dei territori contesi e duramente anche contesi soprattutto con l'instaurarsi della guerra fredda e questo diede modo, ecco, e influenzò molto anche l'espressione del basket che però a sua volta ebbe una retroazione come dirò rapidamente perché ad esempio sì, c'era la ginnastica triestina che peraltro era una storica società che aveva avuto anni gloriosi ma insomma rappresentava veramente già prima della guerra una robustezza notevole perché Trieste era seconda solo a Milano ad esempio nel numero complessivo di scudetti vinti tra maschile e femminile ma poi appunto nella contrapposizione come dire di situazioni e anche di influenze geopolitiche appunto la Lega Nazionale rappresentava i nazionalisti come dice il nome fortemente orientati a difendere a tutti e costi anche a livello diciamo qualche volta di scontro fisico e invece appunto la polizia civile era proprio un gruppo di giovani reclutati proprio per evitare scontri troppo violenti tra le varie fazioni e queste erano, come si rifletteva in campo insomma, entrambe e due le squadre erano, prendendo spunto anche dalla robustezza della tradizione triestina ma anche di questa influenza potente del mondo americano giocavano tutte e due nell'attuale, quella che si chiamava prima serie allora e naturalmente con la ginnastica triestina che era poi l'espressione che sarebbe rimasta poi a lungo anche espressione ma la cosa più interessante da notare è un'altra che Trieste esportò la propria robustezza e la propria capacità costituendo per iniziativa allora del partito d'azione che allora esprimeva nel 1946 il presidente del consiglio Ferruccio Parri e che orientato a difendere l'italianità di Trieste e tentando di lanciare dei messaggi potenti anche verso i giovani attraverso lo sport si inventò l'idea di trapiantare a Milano una squadra che non fosse solo una squadra di palacanesto ma che rappresentasse per certi versi un'anima triestina inizialmente si chiamò addirittura Triestina Milano capace di competere nel primo campionato per lo scudetto pur senza conquistarlo e comunque di arrivare prima della ginnastica triestina che pure era nelle final four quella volta si giocavano ancora per motivi logistici essenzialmente questi raggruppamenti ed è questo interessante perché poi il progetto anche dopo il crollo diciamo tra virgolette dell'influenza politica del partito d'azione che fu sostituito eccetera ma rimase e fu condotto con appunto l'idea di trasferire a Milano tutti i migliori talenti della zona triestina o della zona giuliana e lì andarono Rubini, Romanutti, Fratelli Miliani, altri meno celebri come Acerbi, Sumbera, Spitacco cioè praticamente quasi tutta Trieste e poi da lì venne il progetto diciamo che si trasformò nelle famose scarpette rosse del Simmental Milano che dominò da Milano il basket italiano e anche europeo addirittura fino a metà degli anni 60 cioè vincendo 15 scudetti e con rappresentanti Cesare Rubini il mitico e Gianfranco Pieri che fu prelevato proprio dalla ginnastica triestina che nel 54-55 sfiorò lo scudetto Gianfranco Pieri aveva 18 anni ed fu il principale giocatore numero uno di quel momento ma la triestina aveva grandi interpreti comunque e sfornava continuamente giocatori ma quelli rimasero poi le scarpette rosse che fu praticamente al di là del nome le scappette rosse erano sostanzialmente una sorta, rimasero a lungo una sorta di triestina-mirano veramente un'esportazione del progetto incredibile Grazie, grazie a Florio Pessacco Marino Firmani, stiamo parlando appunto del libro Un secolo a canestra, Friuli Venezia Giulia fra storie sport che si occupa fino adesso abbiamo parlato di Trieste, il libro ovviamente parla anche di Gorizia di Udine, di Monfalcone, quello che succede Apriamo una finestra su Gorizia, che cosa accade invece a Gorizia? Come si sviluppa, come nasce la pallacanestro a Gorizia? Ricordiamo l'Ital a Gorizia L'Ital a Gradisca Da Gradisca noi abbiamo messo in evidenza un nome importante come Canna siamo andati addirittura ad intervistarlo a Bologna lui partì da Gradisca per arrivare a Bologna Bologna ci arrivò grazie anche all'opportunità di lavoro che gli veniva offerta dalla stessa Virtus fu un grande giocatore, addirittura gli viene riconosciuto l'invenzione del tiro in sospensione a Canna e fu quello anche che accompagnò la delegazione italiana nelle Olimpiadi di Roma nel 1960 Poi da Gradisca a Gorizia, a Gorizia possiamo citare per completamento delle scarpette rosse Pino Brumatti, Pino Brumatti viene da Gorizia e ha avuto grande successo con il Simental Gorizia poi negli anni 60, nei primi anni 60, a fine degli anni 50 è stata una squadra leader che ha primeggiato anche attraverso la sponsorizzazione a Spluggen Brown nei vertici della prima serie quindi Gorizia oggi ha fame di leggere questo libro ma ha fame anche di basket moderno Presacco, un capitolo è dedicato al basket femminile anche qui Trieste in qualche modo, torniamo a Trieste, ha un ruolo dominante Assolutamente sì Cosa si può dire del basket femminile nella nostra regione? Mi piace ricordare che in tempi come quelli odierni in cui il contributo del genere femminile lo vediamo anche in politica importante tra Medoni, Schlein eccetera ma che noi siamo stati veramente antesignani diciamo sia pure nello sport di questo tipo di capacità per parecchi anni, nella seconda metà degli anni 50 Trieste che veniva, aveva una grande tradizione con Udine fu dominante Udine e Trieste, Trieste e Udine dominarono tutti i campionati nel settore femminile nel settore femminile assolutamente dominarono assolutamente prima e seconda, seconda e prima ma perché erano così bravi? Trieste forse aveva un'abitudine diversa diciamo di valorizzazione del mondo femminile anche di maggior libertà di maggior presenza anche attiva diciamo io ricordo insomma quando sono venuto qui all'università verso l'inizio degli anni 60 rimanevo stupito dal fatto che a Udine per uscire con una ragazza bisognava avere la sorella, la zia e quant'altro immaginarsi poi andare fuori dopo cena non esisteva mentre a Trieste vedevo arrivare le mie compagnie di corso che guidavano l'automobile insomma già a 19 o 20 anni cioè erano emancipate impensate per noi e questo indubbiamente spinse questo Trieste aveva delle grandissime giocatrici incominciava come maschile a esportarle e le esportò insomma anche a Udine dopo perché a Udine Dino Bruseschi ebbe che allora era presidente del calcio anche eccetera mecenate oltre a puntare anche al settore maschile si rese conto che il settore femminile poteva essere il modo di arrivare ai vertici proprio anche con una robusta iniezione di triestinità perché vennero a giocare a Udine prima la Bradamante che era nazionale celeberrima eccetera e Nidia Pausic e poi anche ultima ciliegina la bravissima Nicoletta Persi che era monfalconese ma era stata valorizzata a Trieste accanto ad altre grandissime come Prenusci, Nunzi, Magris, Vascotto e altre e quindi fu un momento magico in cui poi Udine e Trieste si contendevano il titolo ed erano le uniche due squadre dominanti la nazionale era formata per 7 e 8 decimi da giocatrici friulane o giuliane e questo fu veramente un momento in cui noi fummo in regione a dare questo tipo di messaggio Marino Firmani stiamo sempre parlando del bel volume Un secolo a canestro Friuli Venezia Giulia fra storia e sport ricco primo volume di una storia che forse ne avrà tre che arriverà forse fine ai nostri giorni e nel libro un capitolo è dedicato agli sponsor anzi forse è sbagliato chiamarli sponsor qualcosa di più che cosa avviene diciamo in particolare nella nostra regione beh diciamo che l'industria incontra la palacanestro e considera la palacanestro uno sport all'avanguardia uno sport che si ispirava al modello americano e quindi trovava nella palacanestro un vettore giusto per poter veicolare il proprio prodotto e il proprio marchio la bravura dell'industria all'epoca fu quella di non limitarsi alla sponsorizzazione della squadra ma di convertire la sponsorizzazione in un contratto di abbinamento che tuttora esiste nel mondo della palacanestro la squadra si identificava con esatto l'identità della squadra veniva trasferita all'identità dell'industria e viceversa ovviamente e questo favorì favorì portò innovazione portò innovazione nella società innovazione perché si iniziarono a scendere in campo a scendere sui parchei i gingerini le bibite le birre le cucine componibili le penne a sfera come per la carne in scatola la carne in scatola per cui ci fu proprio un'interferenza d'immagine positiva che diede sviluppo all'industria ma questo era favorito dal fatto che l'industria nel Friuli Venezia Giulia nel dopoguerra cominciava ad avere una sua espansione una sua beh noi raccontiamo in questo in questo libro come il modello Friuli Venezia Giulia che era un modello che stava crescendo con una filiera locale con la crescita dei distretti industriali con una territorialità basata sui ricreatori sugli oratori per cui c'era un modello di sviluppo che ci ha aiutato ci ha educato e ha portato al successo la palacanestro ma ha portato al successo anche anche l'industria se vogliamo citare un grande imprenditore che negli anni 60 a Udine portò in innovazione portò in innovazione Rino Snaidro che non scelse un allenatore ma scelse un ingegnere come allenatore ricordiamo Cristian Cic che veniva da Ljubljana lui era un grande giocatore ma poi prima di fare l'allenatore sperimentò la sua funzione di allenatore proprio a Udine ma Rino Snaidro lo scelse per il suo metodo perché era un ingegnere quindi aveva una mentalità che poteva adattarsi a un gioco di squadra poi il Friuli Venezia Giulia si ispirò anche ai grandi club di Milano che investirono per primi nel vivaio e quindi il vivaio del Friuli Venezia Giulia fu un vivaio che ebbe grandissimo successo a livello nazionale ecco Presacco mi ha dato un assist se posso dire così per un tiro da tre il diciamo questa la palacanestro nella nostra regione è stata favorita l'abbiamo detto appunto il dopoguerra la presenza di americani ma c'era anche dell'altro mi vengono in mente appunto i ricreatori cioè c'erano anche delle realtà sociali diciamo così più territoriali che potevano favorire questo il gioco della palacanestra beh bisogna sottolineare appunto che molto del reclutamento inizialmente specialmente nel primo dopoguerra era spontaneo cioè appunto si giocava spontaneamente nei ricreatori nei campi all'aperto per iniziative insomma diciamo di qualche non di rado o di dopolavori o anche viceversa di nell'ambito della chiesa o delle parrocchie poi ci fu e questo fu la matrice diciamo sia di Trieste ma anche soprattutto di Gorizia con i grandi Zorzi Vittori giocatori mitici a Udine Cescuti con la stessa matrice eccetera poi la cosa cambiò e cambiò sotto la spinta soprattutto di Ezio Cernic che avendo conosciuto Primo ed essendone diventato un collaboratore assorbì l'idea da Giancarlo Primo che fu poi per tanti anni allenatore nazionale di far diventare la Placanestro una specie di atletica giocata rinunciando per certi versi o modificando lo spontaneismo nel reclutamento e trasformandolo invece in sistematica ricerca di talenti fisici a cui insegnare a giocare e insegnare i fondamentali ecco questo fu un altro dei momenti chiave della trasformazione come dire di Udine in un centro che a un certo punto riuscì a sostituire Trieste e Gorizia nella primazia regionale contendendo a Venezia il primato addirittura nel Triveneto grazie ringraziamo Flavio Pressacco e Marino Firmani autori assieme a Roberto Ponticello e Roberto Collini del libro Un secolo a canestro Friuli Venezia Giulia fra storia e sport pubblicato da Aviani Aviani grazie di essere stati con noi aspettiamo la seconda puntata il secondo volume leggetelo e poi vedremo noi di scrivere grazie grazie a voi buongiorno grazie a tutti